visitare l'isola di pasqua è stato un sogno realizzato prima di questo viaggio in cile avevo visitato questo paese sudamericano ben cinque volte in queste cinque volte non avevo mai visitato l'isola di pasqua il motivo sostanzialmente era molto semplice i voli da santiago del cile all'isola di pasqua sono sempre carissimi questa volta a inizio gennaio ho iniziato a controllare i voli praticamente mi veniva sempre fuori 700 800 euro e quindi anche questa volta stavo mettendo un sasso sopra l'idea di andare sull'isola di pasqua incredibilmente google flights se ne è uscito così a sorpresa un giorno dicendomi guarda che c'è un volo con che costa 300 euro vado sul sito della tam che è l'unica compagnia aerea che serve l'isola di pasqua partendo da santiago del cile e no il prezzo era ancora una volta 800 euro quindi ritorno su google flights e vedo che nelle note più piccole c'era scritto che il volo da che costava 300 euro era quello di latam.cl quindi sono andato nel sito di latam.cl quindi quello dei cileni ed effettivamente il volo costava 300 euro non ci credevo a cioè i miei occhi erano totalmente sorpresi davanti a questo prezzo e ho prenotato subito il volo e quindi sono andato sull'isola di pasqua dopo alla fine praticamente di questo viaggio di in sud america di due mesi già atterrare sull'isola di pasqua è stata una cosa allucinante praticamente vedere questo isolotto mini proprio piccolissimo in mezzo al nulla perché appunto l'isola di pasqua dista circa 3000 chilometri dalle coste cilene è stata veramente un'emozione fortissima la cosa che mi ha sorpreso innanzitutto è stata che il volo è un volo cioè l'aero è quello che si usa nei voli intercontinentali quindi c'erano circa 9 10 posti per fila quindi è veramente un aero gigantesco io sinceramente mi aspettavo un aero piccolo tipo un charter invece no è proprio il boeing penso il 747 sinceramente non non so esattamente che numero di di volo di aero possa essere ho deciso di fermarmi sull'isola di pasqua cinque giorni nonostante avessi letto su vari blog che tre quattro giorni sono già sufficienti sinceramente io mi sono fermato cinque notti quindi in totale sei giorni perché sono i voli sono molto comodi perché si atterra a mezzogiorno e si riparte alle 4 del pomeriggio quindi è ottimo perché c'è praticamente un giorno extra per visitare l'isola e sinceramente sono molto molto contento di essermi fermato così tanto anzi mi sarei fermato molto volentieri ancora qualche giorno perché la sensazione di stare in mezzo al nulla è veramente una cosa incredibile soprattutto quando si quando aprivo google map per cercare non lo so un ristorante un posto dove bere qualcosa e a me faceva veramente impressione ogni tanto allargare la mappa e vedere che appunto ero veramente in mezzo al nulla ovviamente l'isola di pasqua è famosa soprattutto per i suoi moai e adesso cioè dal dopo il covi dopo la pandemia hanno cambiato le regole quindi per vedere i posti più importanti bisogna assolutamente contrattare una guida perché non è possibile visitare questi monumenti in in solitaria quindi non si possono vedere in autonomia il i posti più famosi sono sicuramente ranoraraku che è la cantera cioè dove venivano costruiti moai in questo luogo sono stati costruiti 887 moai e 397 di questi si trovano esattamente qui a ranoraraku questo per un fatto per cioè questo questo e viene spiegato dal fatto che per costruire moai i indigeni necessitavano circa 8 10 mesi alla fine di questi 8 10 mesi praticamente spingevano i moai in basso e perché appunto questo luogo ranoraraku si trova in in collina e quindi dovevano spingere come prima cosa i moai in basso a livello del mare purtroppo a volte questi moai già si rompevano quindi quasi la metà di questi moai si trovano qui e il luogo è allucinante proprio si vede veramente questi moai che sono i più grandi perché qua è possibile trovare moai alti fino a 20 metri e ed è veramente un posto magico anche perché è possibile apprezzare da una posizione più elevata la bellezza dell'isola e quindi è veramente un un posto veramente magico e quindi assolutamente è a mio parere il posto più bello dell'isola subito come bellezza subito alle spalle di questo luogo vi è autongariki praticamente dalla cantera da spostavano i locali spostavano i moai fino a degli altari e poi poi ponevano i moai con in posizione con le spalle al mare quindi praticamente l'obiettivo era di vedere di vedere in continuazione i moai che questi moai rappresentavano persone che avevano che erano vissute quindi praticamente era il lo scopo dei moai era ricordare persone importanti e quindi c'è anche quando anche dopo la morte queste persone venivano ricordate in questo modo per questo motivo appunto ad autongariki che è dove è possibile vedere 15 moai vi sono 15 moai di differente statura e alcuni di questi sono abbelliti con dei cappelli autongariki è veramente un posto spettacolare e soprattutto all'alba è un posto magico perché vedere il sole che sorge dietro a questi 15 moai è veramente indimenticabile allora autongariki è praticamente il posto più lontano da angaroa angaroa è il centro dell'isola dove vivono circa mille duemila persone e qui ad angaroa vi è l'aeroporto e vi sono tantissimi bar ristoranti dove i prezzi non sono altissimi sinceramente non ho trovato non ho trovato così tanta differenza tra tra angaroa e santiago anche perché santiago del cile secondo me è uno dei posti più cari del sud america quindi diciamo che con 15 euro riesci si riesce a mangiare molto bene e ovviamente la cosa più tipica da mangiare è il pesce e angaroa è molto carina ci sono appunto vari bar vari ristoranti vi è un porticciolo bellissimo dove ci sono dove è possibile nuotare con le tartarughe marine che sono anche abbastanza grandi quindi è proprio bellissimo come posto l'acqua è cristallina e infatti da angaroa è possibile anche fare delle immersioni ne ho fatta una e che mi ha portato a immerge mia circa 20 metri ammirando un moai sott'acqua è stata veramente una cosa bellissima e quindi assolutamente angaroa passeggiare per angaroa è veramente una cosa molto molto piacevole anche perché vi sono molti fiori l'isola di pasqua è molto famosa per i suoi fiori bellissimi e nei pressi di angaroa vi è autahai dove è possibile ammirare sei moai e questo è un luogo bellissimo per per ammirare il tramonto autahai si trova circa un chilometro di distanza quindi sono circa 15 minuti a piedi dal centro del centro di angaroa e quindi è bellissimo camminare fino lì perché appunto è la prima sensazione di secondo me vedere il tramonto ad autahai è una delle prime cose da fare nell'isola di pasqua per avere un'idea della popolazione della vita della popolazione locale secondo me e lo dico da persona che praticamente non va mai in chiesa una cosa bellissima da fare è partecipare alla messa della domenica vi sono via la messa alle 9 alle 11 di mattina ed è una funzione molto interessante in quanto vi sono via un mix tra credenze pagane e credenze cristiane è molto interessante perché è possibile vedere appunto le persone vestite come da festa e appunto ci sono canti allegri è molto piacevole proprio una un'esperienza spettacolare un'altra cosa molto piacevole da fare a nell'isola di pasqua è mangiare l'humu e che è il piatto tradizionale per eccellenza dell'isola di pasqua questo piatto è un mix di carne di pesce e viene cotto sottoterra uno dei posti più famosi per apprezzare il per apprezzare l'humu è il ristorante te rai e si trova ovviamente sempre a dangaroa e sempre a dangaroa vi è il museo che spiega tutta la storia dell'isola di pasqua è decisamente molto interessante e appunto ti lascia ti la cosa bella di questo museo che ti toglie molte curiosità su quest'isola quest'isola appunto come dicevo all'inizio è molto piccola praticamente da angaroa ad anachena che è la spiaggia più lontana da angaroa vi sono solo 15 chilometri quindi io ad esempio ho fatto un giro dell'isola di pasqua in bici e in totale ho pedalato per 48 chilometri è stato un giro bellissimo anche perché mi ha permesso di di ammirare senza avere turisti di fianco a me il questi quest'isola meravigliosa e l'isola di pasqua è incredibilmente anche delle birrerie artigianali come maina e dove ho bevuto un ottima ipa e appunto no è un è un'isola veramente magnifica e appunto i prezzi sinceramente non sono così elevati come pensavo all'inizio anche perché per esempio per dormire bisogna pagare ho pagato circa 30 35 euro notte e quindi in un ottimo stello quindi i prezzi sono decisamente buoni l'unica cosa che bisogna pagare sì o sì è la tassa d'ingresso perché appunto l'isola di pasqua è una è un centro protetto e questo ha un costo di circa 80 dollari e e quindi appunto questo bisogna bisogna per forza metterlo in conto e appunto il cibo non è non è carissimo ho mangiato veramente dei ceviche che il pesce locale ed è veramente spettacolare quindi assolutamente come rapporto qualità prezzo non non è non è deludente per nulla quindi sinceramente sono rimasto molto molto soddisfatto di questo viaggio e lo consiglio a tutti perché se cercate una un'esperienza fuori dagli schemi l'isola di pasqua assolutamente non non delude anche perché ci sono tantissimi monumenti da da visitare e come a uno ad esempio è orongo dove può dove è possibile visitare la la storia di questi di questo di quest'isola magnifica e vi è anche un cratere di un voltano e appunto ci sono circa 700 moai ancora nell'isola di pasqua da visitare e anche ci sono dei luoghi tipo uno si chiama puna pau dove è possibile ammirare i vecchi cappelli cioè appunto quelle i vecchi cappelli che mettevano in testa i moai che erano usati appunto come decorazione quindi spero che questo racconto dell'isola di pasqua vi sia piaciuto e l'isola è visitabile praticamente tutto l'anno perché il clima non non cambia moltissimo siamo siamo quasi all'altezza del del tropico un po più a sud però non vi è molta differenza tra tra una stagione e l'altra e quindi è visitabile praticamente tutto l'anno un una stagione che è molto consigliata è quella di febbraio perché vi è il tapati che è una festa tradizionale ed è possibile possibile ammirare la popolazione locale vestita con i loro tipici in modo tipico e sì già solo raccontando questa storia mi è venuto il magone e per quest'isola che reputo veramente spettacolare ciao isola di pasqua ciao la panui ci spero che ci rivediamo presto